Strepitosa terza vittoria in campionato per la Carpegna Prosciutto-Pesaro. Altri due punti in classifica timbrati da un canestro fantascientifico, quello che all'ultimo secondo si inventa Cittam smarcandosi da due uomini addosso e piazzando da distanza siderale la bomba del 97-98 con cui la VL espugna Brescia. Una vittoria dal peso specifico superiore ai due punti, perché ottenuta senza Tambone, ancora senza Delfino e con un finale senza Moretti e Abdurrakam fuori per falli, così come senza Coach Repescia espulso. Finale esplosivo di una partita equilibrata con Pesaro che chiude avanti nel punteggio secondo e terzo quarto prima di arrivare costantemente in bilico ad un finale condizionato da un arbitraggio discutibile ma deciso dal tiro spacca partita di Cittam. Bene la VL, male la Vispesaro che a Reggio Emilia perde nettamente 3-0 contro la Big Reggiana confermando tutti i problemi di quest'autunno. Vische deve pure ringraziare il suo portiere Farroni che lascia Pesaro per 75 minuti incollata alla partita dopo che al vantaggio Reggiano Di Ghiebre dopo 7 minuti era seguita la parata del portiere su rigore fallito dalla linea al 17esimo. Ma la Vis non punge, la Reggiana preme e vince 3-0 grazie alla doppietta di Montalto fra 75esimo e 79esimo minuto. Vittoria galvanizzante invece in Serie D per l'Alma Juventus Fano che nello scontro al vertice di Avezzano vince 0-2 beneficiando di due rigori nel primo quarto d'ora della ripresa entrambi realizzati da Broso. Una vittoria che consolida il secondo posto in classifica dell'Alma. Nel calcio a 5 l'Ital Service rimedia un pareggio 3-3 ottenuto in rimonta contro Pomezia che fugge sul 2-0 dopo 17 minuti salvo essere ripresa nel secondo tempo dalle reti di De Oliveira e João Miguel. Pomezia torna avanti 3-2 ma è un rigore del solito De Oliveira a fissare il 3-3 definitivo. Chiude alla grande invece il mese di ottobre la Fiorini-Pesero-Regbi. I giallorossi battono Livorno 31-7 segnando 5 mete e prendendosi altri 5 punti in una classifica irrobustita dalla terza vittoria consecutiva in altrettanti match giocati al Totti Patrignani. Nel volle invece la Megabox Vallefoglia rimedia la seconda sconfitta consecutiva per 3-0 ancora con un'altra big del campionato. Conegliano passa ad Urbino ma dopo due set chiusi sul 25-13 e 25-18 trova una Megabox che se la gioca alla pari ma non basta. Le Venete calano il tris con un 27-25. Chiusura dedicata al tennis. Ieri al circolo tennis Baratov è andato in scena il campionato di Serie A2 maschile dove Pesero ha pareggiato 3-3 con il Tennis Club Piazzano. L'asso pesarese Luca Nardi ha vinto il suo singolo, idem per De Rossi così come Nardi ha vinto in doppio pure con Giacomo Giunta. Pareggio per il Tennis Club Baratov che domani, martedì 1 novembre, avrà un nuovo match a Pesero contro Trento. Nella Serie A2 femminile le ragazze del Tennis Club Baratov hanno invece perso 3-1 a Palermo.